Siamo a bordo della nave Ubaldo 18, la nave protagonista di quella che è stata definita la più grande emergenza sociale dal dopoguerra ad oggi, ovvero quella riguardante la questione migrante. Comandante D'Agostino, qual è lo stato d'animo a fare la parte del protagonista in questa situazione? Il protagonista effettivamente per noi è l'equipaggio, è l'elemento fondamentale. Nessuno di noi è protagonista, neanche io che sono il comandante, ma è un qualcosa che si muove in una maniera unica, organizzata, studiata, addestrata e che va, sì, parte magari dal comandante che chiaramente impartisce gli ordini, ma arriva sino ai cuochi che non sono in coperta insieme ai migranti ma che cucinano migliaia di pasti, colazione, pranzo e cena, senza dei quali l'organizzazione verrebbe a mancare di qualche cosa. Va alle operazioni di volo che permettono di soccorrere i casi sanitari, medici che non siamo in grado di gestire anche se abbiamo un'infermeria con medici e infermieri, che va ai nostri battelli che fisicamente sono quelli che hanno recuperato in questi due anni di attività 16.000 persone, hanno soccorso 16.000 uomini, donne e bambini. Ecco, è un'organizzazione che si muove in maniera sinergica e che però è composta da 52 cuori, senza dei quali un lavoro così duro non si vorrebbe fare, non è un lavoro da stipendiato statale. Comandante, sono numeri e immagini impressionanti quelle che avete illustrato nel corso della conferenza stampa, quali sono, entrando nel particolare, le fasi più delicate del soccorso dei migranti? Allora, se entriamo nell'aspetto tecnico, la fase più delicata è quella dell'avvicinamento dell'imbarcazione. Sono imbarcazioni, le avete viste nelle immagini, le vediamo tutti i giorni sui telegiornali, imbarcazioni fatiscenti, condotte da persone che non hanno capacità nautiche e su cui sono stipati centinaia di persone nel panico. Ecco, il momento in cui tu ti avvicini, loro vedono la salvezza e normalmente tendono a spostarsi verso te. Quel piccolo cenno, quel piccolo movimento è un movimento deleterio, distruttivo, che in pochi secondi ti può portare da una situazione di calma e tranquillità a centinaia di persone in mare. Abbiamo strutturato delle modalità operative, arriviamo ad esempio con due battelli che arrivano di prora, si aprono e si mettono uno al fianco dell'altro, in maniera che anche istintivamente chi è più vicino a uno si gira verso uno, chi è più vicino all'altro si gira verso l'altro e il peso si distribuisce equamente. Abbiamo addestrato del personale che opera in muta da sub con attrezzature molto particolari, che si chiamano soccorritori marittimi, che sono pronti con dei sistemi di recupero di massa a gettarsi a mare. Ogni giorno, ogni evento ha la sua piccola particolarità. Ogni giorno, ogni evento terminato, noi ci fermiamo qui dove ora stiamo facendo questa intervista e ne parliamo. Cerchiamo di migliorarci, cerchiamo di trovare soluzioni tecniche o tattiche che ci permettano di arrivare a un risultato a cui tendiamo tutti. Zero persone verse. In questi due anni, la nave operativa nel canale di Sicilia, dal 2014, spiegava in conferenza stampa, qual è stata l'operazione più difficile alla quale ha preso parte? L'operazione più difficile che ha fatto la nave, a mio avviso, è stata il soccorso di 900 persone, tutte insieme su un piccolo mercantile. Difficile perché non era un barcone, un gomone che lì si ferma, era un mercantile a cui era stato bloccato il timone per andare dritto, un mercantile a cui era stato bloccato il motore e perciò la nave andava avanti. Le condizioni del mare erano decisamente pesanti, dure e non riuscivamo a salire in maniera serena, in maniera tranquilla. Perciò a tutto questo si è aggiunto, cioè alla drammaticità del soccorso, si è aggiunto un pericolo per i miei uomini che loro hanno affrontato in maniera serena e coscientica e senza quel rischio in più, che come vi dicevo prima non è ripagato dalla bile moneta, ma è ripagato solamente dal fatto che la sera poi quando torni in camerino dici ho salvato 900 persone, ecco quella è la moneta che ti ripaga. E quella è stata un'operazione complicatissima perché poi saliti a bordo con tutte le difficoltà del caso, con le 900 persone nel panico, abbiamo dovuto, hanno dovuto, perché io non ero a bordo della nave in questo caso, ma c'era il mio personale, hanno dovuto immedesimarsi in quella che era la struttura di una sala macchine con nomi scritti in cirillico, con macchine vecchie che ormai non si studiano neanche più nei banchi di scuola e la nave che continuava nella sua rotta verso terra e i colleghi ragazzi sono riusciti a fermarla a una distanza che non era qualche centinaio di metri, non erano uno o due chilometri, ma erano distanze che facevano il paio a un drammatico epilogo in maniera decisamente molto stretta. C'è un aspetto, se vogliamo definire, umano, dal quale lei ha fatto accenno nel corso della conferenza stampa che è quello relativo proprio al soccorso dei migranti, che esula da quello che è il discorso politico che si fa in questi frangenti. Ovviamente voi siete in prima linea su quella che è un'emergenza di cui si parla a livello continentale, però lei ha specificato il nostro è un lavoro di soccorso prima di tutto. È una delle domande che chiaramente ci vengono poste più spesso. In una democrazia che si rispetti ci sono delle ideologie, delle idee, delle motivazioni che sono le une diverse dall'altra e tutte rispettabilissime. ognuno di noi ha un parere su questo esodo epocale, ognuno di noi la può pensare in un modo piuttosto che in un altro. Quello che però noi teniamo a rappresentare è che noi siamo dei soccorritori e il fatto di erigere muri, barriere e quant'altro è un aspetto politico. Noi vediamo in mezzo al mare delle braccia che si tendono dall'acqua, degli sguardi impauriti e la risposta non può essere che una e lì non ci sono ideologie o quant'altro. La risposta unica che puoi dare è quella di tendere il tuo di braccio e tirare su chi ti chiede aiuto. Un'utile battuta comandante, fino a quando rimarrà a Civitavecchia la nave che tra l'altro è stata sì impegnata tuttora nell'emergenza migranti ma è stata anche impegnata in altre importanti operazioni come quella del trasporto della costa d'Ancordia. Fino a quando i visitatori potranno visitare appunto la nave? Allora, noi veniamo proprio dalle acque antistanti le coste libiche. Ieri l'altro siamo partiti da lì con il nostro ultimo carico di migranti e abbiamo proseguito poi verso Civitavecchia. Qui ci fermeremo fino a domenica sera, dopodiché partiremo per una missione complessa ma chiaramente più tecnica, è un'esercitazione internazionale di lotta all'inquinamento marino nel Principato di Monaco. La nave, come vi dicevo, si fermerà fino a domenica. Sabato ci saranno visite per la cittadinanza sia di mattina che di pomeriggio e avranno la possibilità di vedere un pezzo di Italia che funziona.